Abbiamo già cominciato a realizzare alcuni pezzi, ricordo i nuovi posti letto di terapia intensiva, gli altri nove che saranno attivati all'inizio dell'anno, ma ci sono progetti importanti come l'adeguamento antisismico, l'adeguamento strutturale, l'adeguamento antincendio, che le sale operatorie sono tutti temi importanti che trovano adesso il finanziamento. Come cambierà il volto di questo ospedale, che è tanto caro agli aretini, che però è stato anche un ospedale covid? La sua storia sta per cambiare? La sua storia in parte è già cambiata perché abbiamo già ripreso con moltissime attività, subito dopo il periodo estivo, avendo superato le principali criticità legate all'emergenza, ma poi l'obiettivo è quello di arrivare progressivamente a un ospedale moderno, un ospedale tecnologicamente avanzato, in grado di rispondere ovviamente ai bisogni della popolazione, ma anche alle esigenze dei professionisti di poter lavorare in sicurezza, con qualità. Sono 77 milioni di euro e non sono assolutamente pochi, che riguarda la ristrutturazione del settore 1, settore 2, settore 3 e reparti di alta intensità per 28 milioni e 100. 15 milioni e 500 sono per la ristrutturazione delle sale operatorie e del blocco operatorio, gara aggiudicata proprio in questi giorni dal direttore generale, poi per il decreto rilancio abbiamo, come diceva il direttore, tutto l'ampiamento dei posti di terapia intensiva e semi-intensiva per l'emergenza Covid. Entro fine anno sarà restituita agli arettini la sala angiografica e anche altri 3 milioni e mezzo sono stati messi per la sicurezza antincendio in tutto l'ospedale. Oltre 17 milioni, che sono veramente non pochi per tutto il discorso dell'adeguamento antisismico. Quindi tanti soldi e il Dipartimento Tecnico è pronto per spenderli nel migliore dei modi, a vantaggio della qualità del nostro ospedale.